Tam Tam per ridare libertà ai tuoi movimenti. Utilizzalo per eseguire esercizi muscolari. L'importante è che alla fine di ogni estensione del braccio si produca un rumore amico. Tam Tam è il mezzo migliore per fare ginnastica e liberare le nostre mani, polsi, braccia e spalle dallo stress e dagli effetti negativi che un movimento può produrre. Ogni volta che vorrete, nel corso della giornata, esercitatevi con i bastoni Tam Tam e per 3 o 5 minuti fate gli esercizi che vi stiamo mostrando.